Amici bentornati, si oggi parliamo di lui, parliamo del Mi Pad 4, me l'avete chiesto in tantissimi Mi avete chiesto in tantissimi perché è meglio di questo Mi Max 3 o quale dei due preferire Sapere ciò dovrete solamente che aspettare il prossimo video perché oggi parliamo solamente di lui, del Mi Pad 4 E già perché comunque il Mi Pad 3 ci aveva un po' deluso, io neanche l'avevo portato perché aveva un Mediatek che era davvero triste come tablet Ma le cose sono cambiate, abbiamo qui dentro uno Snapdragon Finalmente, finalmente un tablet Xiaomi con lo Snapdragon Allora, perché è interessante questo Mi Pad 4? Beh, sicuramente la prima cosa è che costa poco, costa davvero davvero poco Lui è disponibile anche nella versione LTE, vedete qua sopra questo spazio che sarebbe in genere quello dedicato alle antenne Il carrellino delle SIM qua è bloccato, non abbiamo lo spazio per la SIM Però ha quell'opzione lì, se volete pagate un po' di più e avete la versione LTE Piccola anticipazione, come già avevo detto nella recensione del Mi Max 3 Perché se cercate un mini tablet con le SIM il Mi Max 3 può aver senso perché lì avete due SIM in dual 4G Qua per avere le SIM dovete pagare di più, non è comunque la stessa cosa Insomma, il Mi Max 3 per le SIM per la parte connettività mobile rimane top Partendo quindi da un prezzo che sicuramente è interessante, l'altra cosa interessante di questo tablet è il Form Factor Infatti vedete non è un classico 16 noni, non è neanche un 18 noni È praticamente in 16 decimi, quindi è bello quadratoso per così dire Secondo me è davvero il formato ideale per un tablet Tra l'altro abbiamo un peso attorno ai 340 grammi, quindi non dà troppo fastidio in mano Soprattutto se poi l'andate a impugnare con due mani, lì è proprio fantastico E lui ha un paio di chicchette sparse in giro per il tablet Per esempio all'autostereo, ha una fotocamera che comunque è quella che trovavamo un anno fa sui vari Redmi Quindi capite che non è proprio super pessima Abbiamo sotto la Type-C, questo è un super punto a favore E abbiamo poi i classici fori che sono simmetrici Occhio però perché non è come gli smartphone che a uno lo fanno solo per simmetria e dentro ci mettono i microfoni Qua abbiamo effettivamente un audio stereo Quindi un canale a sinistra e un canale a destra E questa secondo me sarebbe anche una cosa apprezzabile Però non mi piace che siano tutti e due qua sotto Perché se io vado a impugnare il tablet così Ok, uno dei due canali magari lo copro un po' meno Però copro entrambe comunque le porzioni di speaker Avrei preferito magari una a sinistra, una a destra, un po' in alto, comunque centrali O magari anche due piccole soluzioni qui laterali Dove in genere non vai ad impugnare il tablet Insomma un audio stereo che poteva essere studiato meglio Anche perché comunque uscendo tutti e due da qua sotto Non si ha poi tutta quell'immersività Audio che comunque già me ne parlo dato che stiamo in argomento È buono, è un buon audio Per vedere film, serie tv e quant'altro va benone Per ascoltare musica va benone E tra l'altro occhio perché avete il jack da 3.5 mm Non ci hanno tirato la sola stavolta del niente jack Quindi brava Sean La baiola non existe però Este po' qui si è candela Tecino lleva pa'fuera Esto lo baiola in la favela Questo splendidissimo disegnino intelligentino Ottimo lavoretto Bene parliamo del display però È un display IPS Vabbè su questo ce lo aspettavamo Però devo dire che è un buon IPS Anche perché un tablet nella maggior parte delle volte O almeno la maggior parte delle persone che ho conosciuto Che utilizza un tablet Lo utilizza in interna, sul salotto In altre parti di casa Magari sul letto per vedere un film Insomma un uso più casalingo che esterno Quindi un IPS va bene Un display che comunque ha una reattività ottimo Un digitalizzatore quindi ottimo Tra l'altro anche una buona escursione tra minimo e massimo di luminosità Parlando poi di prestazioni Nessun problema Abbiamo lo Snapdragon 660 Capite solo lì che va una bomba Abbiamo poi la RAM che è in DDR4 In dual channel Abbiamo lo storage Che ovviamente è espandibile O comunque potete scegliere la vostra versione Lo storage ovviamente è una eMMC Però comunque prestazionalmente è un tablet Che si può usare tranquillamente Per ogni tipo di gioco Avrete magari qualche piccolo piccolo caricamento Più lungo del solito Di un top di gamma Ma è comunque accettabile Vabbè non è un tablet che per il gaming È approvato È super approvato Ma non è stato quello L'uso principale che ne ho fatto io Il mio uso principale è stato leggerci Io ho anche il Kindle Uso praticamente soltanto il Kindle Per leggere i libri Ma per leggere i comics Serve assolutamente un tablet Leggere i comics infatti dal telefono È qualcosa che non considererei mai a nessuno nella vita Troppo piccoli le scritte Non si capisce niente Qui Marvel Unlimited gira Che è un amore Si legge tutto benissimo È perfettamente compatibile Ma anche se qualcuno legge manga Nessun problema Anche quelli si vedono davvero davvero molto bene Ovviamente le app social Per chi fa un uso social del tablet Girano con una fluidità pazzesca Quindi si può usare Facebook Instagram Quello che volete Girano davvero tutte molto bene Quindi il lato prestazionale davvero Non ha criticità a questo tablet È una bomba E poi ha una batteria infinita Già calcolate che la prima volta Che io ho utilizzato questo tablet L'ho utilizzato in modo davvero blando Lo mettevo là sul letto Lo riprendevo la sera Lo usavo un po' al pomeriggio Ma per uso davvero facile Ogni tanto qualche piccola sessione di gaming Ogni tanto ci andavo a leggere qualcosa Ci vedevo qualche notizia E ci ho fatto 14 giorni Con tipo 8 ore di display Una roba pazzesca Ma forse pure qualcosa in più di display Insomma Se siete i tipi che usate poco il tablet Lo mettete lì in salotto Ogni tanto lo prende qualcuno per caso Insomma Non vi dovete mai preoccupare della carica Perché lui consuma zero in background E anche quando lo utilizzate Consuma davvero poco Essendo poi che il 660 non scalda tanto E che lui ha una superficie comunque molto grande Dove dissipare tutto il calore Voi non vi accorgite mai che scalda E le temperature si distribuiscono molto bene Una cosa che mi sarebbe piaciuto avere Su questo tablet È sicuramente il GPS Infatti Non c'è un GPS Potete utilizzare la localizzazione di Google Quella ovviamente con i dati Però non è una roba precisa Non è una cosa con la quale Ci si può navigare E qua il Mi Max 3 prende il sopravvento Il Mi Max 3 è il navigatore perfetto Fortunatamente però abbiamo il Bluetooth Quello funziona benone Non ha alcun problema Io lo sado tranquillamente Quindi connettività che è buona Ma comunque non è stellare Fotocamera Fotocamera vi ho detto Il sensore è quello che troviamo su Redmi S2 Trovavamo su qualche Redmi Note 4 Insomma tutti quei terminali che avevano come sensore L'OV13-855 Come camera frontale invece la classica S5-K5-8 Anche questa l'abbiamo stravista sugli Xiaomi Insomma fotocamere che non sono niente di che Registra massimo 1080p Credo che probabilmente modificandolo un attimo Ci giri tranquillamente la Google Camera Quindi sì potete installare quella Magari per fare qualche foto più carina E sbloccare i video in 4K Una cosa che non mi è piaciuta di questo tablet E mi sono scordato a dire prima E è una cosa davvero importante Quindi mi scuso se la dico soltanto ora Non c'è il supporto Ai DRM Widevine L1 Abbiamo gli L3 Questo significa che tutti i servizi di streaming Non li possiamo vedere Non li possiamo vedere in altissima qualità O almeno questo dovrebbe essere Io poi devo dirvi che andando a vedere qualche contenuto Non ho notato proprio questa grandissima Perdita di qualità Però ecco sicuramente con il modding Se arriva qualche porting Che sblocca le L1 È sicuramente qualcosa di favorevole per questo tablet Che è comunque un dispositivo multimediale Io dico stai facendo un dispositivo così Un tablet Che sai che tanti andranno a utilizzare Come risorsa multimediale Sbloccaci le L1 Mettici queste L1 Xiaomi E ci leviamo il pensiero Però vabbè dai A parte questo Abbiamo un prezzo davvero base Base Perché comunque il prezzo è basso Tablet Android Così decenti Non ce ne sono più Soprattutto Con processore Snapdragon Quindi Se cercate un tablet Praticamente O andate di lui O andate su qualche Samsung Che è ancora rimasto in circolazione O sui Huawei top di gamma Come la M3 E la M5 Che però costano davvero Una roba esagerata Oppure andate di iPad Però vabbè Io non ho l'ecosistema Apple Quindi con un iPad Non ci farei niente Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Noi ci vediamo a breve Con il confronto Con il Mi Max 3 Alla prossima